Ciao a tutti e benvenuti. Io mi chiamo Andrea Muttoni e sono un tech evangelist nel team di Amazon Alexa. Oggi vi presento una serie di video dedicati allo sviluppo di Alexa Skill. Le Alexa Skill sono app per Alexa. Nel primo video affronteremo le basi fondamentali, la terminologia, l'architettura di base e come funziona una skill e creeremo la nostra prima skill Hello World. Iniziamo. Iniziamo a definire meglio cos'è Alexa. Alexa è un servizio che si trova nel cloud diviso in due parti fondamentali. La prima parte è l'Alexa Voice Service, ovvero come si possono interfacciare dispositivi di tutti i tipi con il servizio Alexa. E qui ne vediamo alcuni esempi. Per esempio l'Eco Show, che sono prodotti da Amazon, ma anche prodotti di terze parti, come per esempio un frigo, un'automobile, un microfono, qualsiasi cosa. Ma una volta che tutti questi prodotti sono collegati ad Alexa, che tipo di esperienza si può avere? E questa esperienza viene data dalle skill. Le skill insegnano ad Alexa cose nuove. E oggi appunto parleremo di come si crea una skill. Ma prima di crearne una, vediamo quali sono i concetti fondamentali. Intanto bisogna attivare Alexa con un wake word, una parola di attivazione. Di solito è Alexa, ma può essere Amazon, Echo o Computer. Una volta attivato il dispositivo si può lanciare una skill. E si lancia con una parola di avviamento, come per esempio open o apri, inizia, fai partire. E il nome della skill, che non è il nome che date finale che si pubblica sullo store degli skill, ma è il nome di invocazione. Il nome di invocazione è il nome che gli utenti dovranno dire per aprire la skill. Di solito un nome di invocazione può essere dalle due e le tre parole e può anche contenere parole generiche. Ma non solo qua, si possono anche aggiungere dei comandi specifici, come per esempio chiedi a spacefax per un fact. In questo caso chiedi a aneddoti spaziali per un aneddoto sullo spazio. Ma ci sono vari modi di dire la stessa cosa. Infatti Alexa ragiona ad intenti, li chiamiamo intense. Come sviluppatori non ci dobbiamo preoccupare delle frasi esatte che usano gli utenti. Noi dobbiamo semplicemente dire ad Alexa quali intenti intendiamo supportare nella nostra skill e alcuni esempi di frasi e Alexa penserà al resto. Quindi anche se l'utente dice dammi un aneddoto sullo spazio o fornisci un aneddoto sullo spazio o dimmi qualcosa di interessante sullo spazio, mapperanno tutti sullo stesso intento dammi un nuovo aneddoto o get new fact intent. Queste frasi si chiamano utterances. Alcune volte però non basta solo la frase che si mappa ad un intento, serve anche collegare un parametro specifico che noi chiamiamo slot, ovvero una variabile. Per esempio dammi un aneddoto su Marte. E abbiamo bisogno di sapere che Marte è una parola specifica detta dall'utente che usiamo noi come sviluppatori nel nostro backend per fornire un aneddoto su Marte. E questi si chiamano slots. E noi come sviluppatori definiamo questi slot nell'interfaccia vocale, che vedremo come fare dopo. Gli slot possono essere di tipo built in, ovvero predefiniti, o custom, ovvero definiti da noi. Quindi riassumendo, abbiamo una parola di avviamento o di lancio che è Alexa, poi si chiede all'Alexa di aprire una skill, per esempio apri aneddoti spaziali, e si può anche aggiungere una frase più specifica come dammi un aneddoto sul pianeta Marte, per esempio. Ci sono anche intenti predefiniti, quindi l'intento dammi un nuovo aneddoto l'abbiamo creato noi. Ma ci sono aneddoti predefiniti in ogni skill, come per esempio stop, cancel and help, ovvero stop, annulla e aiuto. Questi sono intenti che sono stati allenati da tantissime frasi, cosa che quindi non dovremmo fare noi, e che ogni skill deve avere per offrire un'esperienza utente abbastanza coerente, a prescindere da cosa fa la skill nello specifico. Ora passiamo all'architettura generica di come funziona una skill. È divisa in due componenti. Quello che abbiamo visto finora fa parte dell'interfaccia vocale, il voice interaction model, the voice user interface. Questo è complementato da il back-end, il programming logic, ovvero come si implementa ogni intento, come si gestisce ogni intento. Quindi se io dico dammi un aneddoto su Marte, c'è bisogno di qualcosa che poi trovi un aneddoto su Marte e lo restituisca. E questo lo si fa tramite il back-end. Entrambi queste due cose verranno fatte su developer.amazon.com. Precedentemente bisognava usare un servizio di hosting esterno, come per esempio AWS o qualsiasi altro back-end o server a disposizione. Mentre oggi abbiamo a disposizione Alexa Hosted Skills, ovvero un back-end hostato da Alexa pronto per l'uso, semplificato, che comunque si basa su AWS. In questo modo avremmo solo bisogno di accedere a un sito unico, developer.amazon.com, e potremmo creare la skill e implementare il back-end tutto da lì. Prima di implementare la skill vediamo l'architettura generale. Quando un utente parla a un dispositivo, il suono che l'utente emette, che per alla fine per un microfono è solo suono, viene processato dal dispositivo e l'unica cosa che sa fare il dispositivo è capire se l'utente ha detto la parola di avviamento, ovvero Alexa. Una volta che sente Alexa, manda tutto il resto all'Alexa Service. E l'Alexa Service fa due cose. La prima cosa è Automatic Speech Recognition, ovvero capire che cosa ha detto l'utente. Convertire quel suono in testo. Una volta che si ha il testo, si invece cerca di capire qual è il significato. Quindi, se io chiedo per un aneddoto sullo spazio, devo anche capire che cosa vuole fare l'utente con quella frase. E in questo caso sto chiedendo a una skill aneddoti spaziali di formirmi un aneddoto. Quindi Alexa manderà la richiesta alla mia skill nel mio backend e io potrò restituire una risposta che poi verrà restituita all'utente. Ora vediamo come si fa. Ora siamo sulla Developer Console, sono su un account nuovo, quindi non ho skill qui e andiamo a cliccare su, prima zoom un po', andiamo a cliccare su Create Skill. Qua lo chiameremo Hello World perché si parte dall'inglese. Nel video successivo vedremo come aggiungere l'italiano in modo da supportare più di una lingua. E questa skill Hello World sarà di tipo custom. Ci sono vari tipi di skill, ma il tipo custom è quello che ci offre più flessibilità. Qua abbiamo l'opzione di scegliere tra Provision Your Own, ovvero che definiamo noi il nostro backend, oppure selezionare Alexa Hosted. Alexa Hosted farà in modo di creare un piccolo backend tutto per noi direttamente sulla console per sviluppatori. Cosa che faremo qui. Quindi abbiamo selezionato custom e Alexa Hosted. Andiamo su Create Skill e ci vorrà un po' perché Alexa sta creando un piccolo account di sviluppo tutto per noi. Eccoci qui. Allora, vediamo un attimo questo portale. Iniziamo dalla parte alta. Abbiamo sei sezioni. Build, Code, Test, Distribution, Certification and Analytics. Ogni fase, diciamo, è più o meno sequenziale. Iniziamo a definire l'interfaccia vocale nella sezione Build. Poi andiamo ad implementare il backend nella sezione Code e poi testiamo il tutto nella sezione Test. Una volta che facciamo questo un paio di volte e siamo soddisfatti della nostra skill, potremo procedere con la distribuzione, ovvero definire dov'è disponibile e mandarlo in certificazione. Andiamo con calma però. Allora, T-Default, e alla fine sarà l'obiettivo di questo video, la skill fornita da Alexa Hosted sarà una skill di Hello World. Quindi per ora non andiamo a toccare nulla. Però vediamo un attimo com'è fatta. Allora, abbiamo una zona Invocation che definisce il nostro Invocation Name, il nostro nome di invocazione. In questo caso viene automaticamente preso il nome della skill che noi abbiamo chiamato Hello World. Ma qui potete tranquillamente cambiarlo in qualsiasi nome di invocazione vogliate voi e non deve essere uguale al nome della skill. Poi abbiamo gli intenti. Gli intenti sono, diciamo, le funzioni, le funzionalità che la vostra skill ha. Abbiamo degli intenti predefiniti, quelli che abbiamo visto prima, per esempio Cancel, Help, Stop, Navigate Home. Cancel è annulla, Help è aiuto e Stop è basta, smetti. Vedete che qui non ci sono esempi, ma potete sempre potenziarli aggiungendo frasi e esempi vostri, se per caso alcune frasi che state testando non sono compresi in questi intenti predefiniti. E poi ci sono gli intenti definiti da noi. In questo caso solo uno per ora, chiamato Hello World Intent. Ed è stato allenato con queste frasi esempio. Hello, how are you, say hi, hi, eccetera. Quindi, come si può capire qui, è uno skill molto semplice che fa poco. Andiamo a costruire il modello. Costruire il modello vuol dire che andiamo a prendere tutti questi dati qua, il nome di invocazione, gli intenti, le frasi esempio e andiamo a insegnare ad Alexa di riconoscere tutte queste cose. Tra l'altro, in questa sezione JSON Editor, vedete che tutto quello che abbiamo fatto nell'interfaccia visiva è riassunto in un oggetto JSON. Quindi, in futuro, se voi volete gestire solamente il JSON, potete gestirlo qui, aggiornarlo e tutta l'interfaccia rispecchierà il valore JSON. Una volta costruito il modello, possiamo andare nel lato codice, che appunto è il secondo step. Quando siete in mezzo allo sviluppo della vostra skill, vi consiglio di usare vari tab per build, code e test, così potete saltellare in fretta tra uno e l'altro. Ora, invece, ve le faccio vedere uno a uno perché saltelleremo nei prossimi video. Quindi, come è fatta la zona code? La zona code avete il vostro codice a sinistra, nella cartella Lambda. In questo caso è in Node.js e avete il vostro solito package.json, dove potete aggiungere moduli che vi servono, tra l'altro cosa che faremo nel secondo video, e il nostro file principale index.js. Nell'index.js ci sono i handler. I handler sono gli oggetti che gestiscono ogni intento. In questo caso c'è il launch request handler, che per esempio gestisce quando apro la skill, senza definire un intento specifico, infatti è launch request. E come funzionano questi handler? Ci sono due metodi. Il primo metodo è can handle. Il can handle ha il ruolo di determinare se questo handler è quello giusto per gestire la richiesta in arrivo. Quindi restituisce sempre vero o falso. L'altro è handle, ovvero se il can handle restituisce vero, handle gestirà la richiesta. Quel handle di quel handler. In questo caso se noi diciamo apri aneddoti spaziali, farà scattare una launch request e quindi la nostra skill dirà welcome, you can say hello or help. In questo caso in inglese quindi dovremmo dire Alexa open space fax. Or open hello world in realtà. Qua c'è il handler per il nostro intento personalizzato che è hello world. Quindi se il tipo di richiesta è un intent request e il nome dell'intento è hello world, la nostra skill risponderà hello world. E così via. Tutto questo viene registrato alla fine dove si istanzia l'oggetto Alexa e si registrano questi handler in add request handlers. E si chiude tutto con il punto lambda. Questo oggetto Alexa viene definito all'inizio del file usando il ask SDK che diciamo è il motore di tutto. Tenete presente però che una skill e il back end di una skill è semplicemente una richiesta JSON in arrivo e una risposta JSON in uscita. Quindi anche se adesso stiamo usando l'ask SDK che ci semplifica la vita in vari modi, se non volete usare l'ask SDK o volete usare una lingua che noi non supportiamo ufficialmente potete semplicemente gestire il JSON voi in qualsiasi lingua vogliate. Ora facciamo deploy che prende tutti questi file e li aggiorna nel nostro back end gestito da Alexa hosted skills e andiamo nella fase test per vedere se funziona. Prima di tutto dobbiamo abilitare il test e qui possiamo o scrivere o parlare alla nostra skill. Quindi qua facciamo open hello world. Ed ecco la nostra skill che funziona. Nel prossimo video vediamo come aggiungere l'italiano.